Prosegue spedito il lavoro di sequenziamento da parte dell'Istituto Zooprofilattico Abruzzo-Molise-Caporale dei tamponi positivi per capire quanti di questi siano riconducibili alla variante Omicron. Sono circa un migliaio i tamponi analizzati dall'IZS in questo mese, ma che riguardano le regioni Abruzzo e Umbria. A stretto giro l'Istituto dovrà comunicare i dati ufficiali delle analisi sulla variante sudafricana al governo, visto che per domani in programma la cabina di regia è convocata dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e si baserà proprio sui numeri della diffusione della Omicron per decidere se e quali restrizioni introdurre durante il periodo delle feste natalizie di fine anno per limitare il diffondersi del virus. Noi non ce l'avamo mai fermati, però adesso sicuramente c'è un incremento delle operazioni di sequenziamento. La variante Omicron non spaventa, così come spaventavano le altre varianti in precedenza. Infatti non ci deve preoccupare un aumento spaventoso nei numeri dei casi sostenuti da variante Omicron, perché verosimilmente sarà la variante dominante nelle prossime settimane, mesi, nel territorio nazionale e in tutta Europa. Noi in questo momento ancora non abbiamo dati ufficiali riguardo alla variante Omicron in Abruzzo, però sicuramente nei prossimi giorni sapremo dare risultati più puntuali, proprio perché in questi giorni, proprio oggi, è in corso l'operazione di flash survey organizzata dal Ministero della Salute. La variante Omicron ha un tasso di contagiosità elevato, più della Delta, che in questo momento è ancora la variante dominante, ma che presto probabilmente verrà scalzata dalla variante Omicron, così come è accaduto in precedenza con le altre varianti. Quindi non ci deve sorprendere questo momento repentino. Cosa possiamo fare? La variante Omicron si trasmette esattamente come si trasmettevano le altre varianti. Quindi l'unico strumento per evitare il contagio è sicuramente il distanziamento e la mascherina. E poi c'è la grande arma che abbiamo a disposizione, cioè il vaccino. E cosa hanno visto gli inglesi in queste ultime ore? Che il numero di casi tra i ragazzi, tra gli adolescenti, tra i bambini, sta incrementando, proprio perché sono le popolazioni, sono la fascia di popolazione, che ha meno percentuale di vaccinati. Come vengono scelti i tamponi da sequenziare? I tamponi vengono scelti in base sicuramente alla carica virale, cioè quanto virus c'è dentro. Perché la carica del virus ci dà, con una buona affidabilità, una buona sequenza. Quindi meglio sequenziare i tamponi che sono belli carichi di virus. Noi come Sistema Italia sequenziamo ancora molto poco. L'ideale sarebbe sequenziare almeno il 10% dei tamponi positivi, cosa che in questo momento in Italia è irraggiungibile. Noi però come i ZS a Teramo siamo orgogliosi dei nostri risultati perché sequenziamo veramente tanti tamponi e continueremo a farlo a servizio della nostra regione.